buongiorno a tutti ragazzi oggi siamo qui per un nuovo video su minecraft insieme al nostro amico sul nuovo mondo sul mio computer che in realtà è un tablet va bene settiamo la visuale e continuiamo ok ok ci sono l'ho autoscritto sei ancora là ti vedo ma pollo comunque siamo qui su questo mondo che abbiamo appena cominciato ma purtroppo abbiamo qualche problema con i video e non mi va quindi torniamo qui no questa è un'altra caverna ma tu sei fissato scusa con l'andarina va bene piazziamo la nostra crafting table 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 boh non mi interessa e ci facciamo le nostre torce facciamo con le torce e quante ne ho 64 pulite vai cucchiello vieni qua non farti gli affari tuoi dai sennò crasha di nuovo il video adesso che siamo pieni di torce oh ma come vieni allora vieni che tu ce l'hai il piccione no cosa l'ho appena fatto eh adesso mi sembra quando ho fatto tutta ah aspetta aspetta che non prendo allora proprio due piccone e uno per u no per te e aspetta aspetta vieni qua e con la Q te lo do in due secondi e stai forte c'è tu con lo table pooper eccolo la ce l'hai in mano no io adesso ah ok ok vieni 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 verso la lava questo YouTube stai lagando ho visto altro carbone aspetta no non picchiarmi mai tu non lo picchiarmi eh aspetta ok per non buttarmi nella lava sennò io picchio il carbone aspetta ah qua c'è tanto di carbone sì piccone un po' eh l'ho là l'ho lo 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 lo- oh ti lascio il carbone ok l'hai fatto sei eri la e poi l'hanno si è sparito stai morendo va bene comunque il video durerà penso se riusciamo una decina di minuti oh 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 grotta grotta nuova diciamo che queste sono tutte grotte inesplorate oddio cosa ho trovato non ti ho picchiato non sono l'aio ma come hai fatto ad entrare? come hai fatto ad entrare? non ho carbone io dentro? stai fermo con il mio ferro levati mia nonna te lo devo prendere oh 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 ah che ora se va prendere il mio immobile ecco la correzza ce n'è ancora fermo qua ce n'è ancora fermo qua qua ma che roba cambia estremo ce ne so va bene non ci vuole niente da salire vai avanti madonna sprinta devi andare sul terreno sprintare poi ti butti un altro ok ero esplorata comincio subito a torciare ignorando il carbone fidati dopo lì non ci vado nessuna parte si però c'è sempre il carbone e quindi ce lo picchiamo oh mio dio oh mio dio mi fate altro un altro precipicio precipicio no sulla lava muori adesso muori no 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 io la vedrei dove sono ah sei nella lava sono morto come sei precipitato no no non sei precipitato e qua mi ha scritto nick è precipitato rinasci salta 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 ok vista eh lo so come faccia prova a vedere se c'è ancora aspetta qua eri no non è picchiare in questo momento perchè proprio guarda aspetta sì guarda 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 si ho visto adesso piccolo fino a giù ok dai mi sa che non riusciamo a farlo durare 10 minuti quindi dico mi sono buttato mi sono rimasti un po di cuore va bene allora vieni qui che chiudiamo il video in bellezza con un po di ferro anche si ce l'ho io dopo te la do ci vediamo nel prossimo video ciao commentate mettete like iscrivetevi e no forse non lo so non sarà comunque scorso scorso i progetti del canale su slitterio e passa la moto aspetta i progetti del canale su slitterio e io avevo no aspetta stai ferma lasciami parlare io avevo chiesto di scrivermi delle parole per sui commenti per iniziare una serie su google traduttore e commentate anche sotto questo scrivendomi le parole che volete e al prossimo video al prossimo video ciao iscriviti al canale